Sì, è stato oggi un incontro importante con il Direttore Generale della FAO, con i suoi collaboratori, perché deve continuare l'esperienza che abbiamo già avuto con Expo Milano 2015. Ci siamo dati appuntamento e daremo appuntamento a tutti i sindaci delle grandi città del mondo che rappresentano oltre 400 milioni di persone e che si sono impegnati per la lotta agli sprechi alimentari e per la sana alimentazione l'anno prossimo qui a Roma, alla sede della FAO, per poi continuare il percorso e soprattutto continuare la grande capacità che abbiamo avuto in questi mesi di scambiarci le buone pratiche per contrastare la lotta alla fame nel mondo e per evitare che ci sia chi non ha da mangiare perché viene sprecato il cibo e chi ha troppo da mangiare. Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti.